Con questo video volevo spiegarvi i tre segreti della programmazione, quindi i tre segreti per diventare un programmatore questo perché nel mondo dei maker saper programmare è importante riuscire a scrivere del software è un elemento fondamentale perché purtroppo non è tutto solo hardware, non sono solo stampanti ma per esempio se volete usare un arduino o un raspberry dovete per forza scrivere un programma in Italia questo è anche un problema perché molte persone arrivano dalle scuole dove non viene più insegnato la programmazione ok, al di là del linguaggio che volete utilizzare, che utilizzerete quello che sta alla base di un programma, quindi i tre segreti del programmatore sono uno, un programma è una sequenza di istruzioni o di comandi che si seguono uno dopo l'altro è come se fosse la ricetta, se voi volete fare una torta, prendete il ricettario e seguite le istruzioni che trovate quindi prendi la farina, prendi le uova, le metti in un recipiente, mescoli il tutto, aggiungi lo zucchero e altri ingredienti, la inforni eccetera eccetera quindi una sequenza di passi che vanno rispettati ed eseguiti esattamente come vengono detti quindi questa sequenza definisce un flusso, quindi un filo che lega tutti questi elementi il secondo elemento importante è quello di ripetere le cose i programmatori sono pigri e quindi invece che fare loro e ripetere loro le operazioni preferiscono farlo fare il computer se dovessi fare dieci torte, scrivo la ricetta per una e poi dico un computer di replicarmi le altre dieci quindi i programmi contengono sempre dei cicli che ripetono le operazioni per farci fare meno fatica questi cicli possono essere a ripetizione infinita, cioè funzionano finché è acceso il computer o possono terminare con delle condizioni, ad esempio dopo un certo numero di passi o se accade qualcosa questo ci porta al terzo segreto della programmazione che è quello di eseguire dei test e quindi prendere delle decisioni ogni programma deve poter modificare il flusso di esecuzione e prendere delle semplici decisioni cose che per noi sono normali, quindi al mattino apro la finestra, guardo fuori e se piove prendo l'ombrello oppure no quindi questo se è un test che viene fatto all'interno di un programma questi test possono essere più o meno complicati ma alla fine permettono di scrivere dei programmi che possono adattarsi e fare cose un po' più intelligenti che seguire una semplice sequenza poi con queste tre cose di certo non diventerete un programmatore però sono il fondamento che poi ritroverete in tutti i linguaggi di programmazione che potrete imparare quindi a partire da scratch, quello visuale molto semplice in cui muovere i primi passi fino ad arrivare al C o utilizzando javascript, java o i linguaggi del mondo microsoft il succo è sempre quello di avere questi tre elementi che vanno a formare i programmi a presto! Grazie per la visione!